Da bambino pensavo che mio padre lavorasse in aeroporto, perché andava sempre lì. E quindi è stata una rivelazione sapere che non era un dipendente di una compagnia aerea. Lui sa sempre cos'è importante e penso che senta la sua missione, soprattutto quando va in città più piccole. Dal momento in cui atterra e per tutto il tempo in cui si ferma. È là per diffondere la sua percezione del mondo, in ogni conversazione e interazione che ha. Aspita! Buonasera! Io sono Yo-Yo Ma e lui è mio fratello, Keihan Kallohol. Eravamo gemelli ma ci hanno separati alla nascita. Ma abbiamo scoperto da analisi del DNA che anche le nostre scelte di vita sono le stesse. Grazie! Grazie a tutti Grazie a tutti